Si infittisce ancora di più la questione della bonifica di Bussi. Il Ministero dell'Ambiente ha colto al balzo la sentenza del Consiglio di Stato che individua la Edison come responsabile del disastro ambientale e intende annullare la gara del 2018 che aveva giudicato i lavori di bonifica delle discariche 2A e 2B. Tra le motivazioni, quella che risulterebbe difficoltoso, una volta completata la bonifica, recuperare le somme nei confronti del responsabile, ovvero Edison, ma anche perché tramite quell'appalto non si soddisferebbero le esigenze di bonifica. Le cose però non sembrerebbero stare così. Secondo un documento dell'Arta, la procedura tracciata per la bonifica sarebbe corretta. Abbiamo trovato un documento dell'Arta del 2015 in cui si spiegava il perché il commissario delegato all'atto di elaborare il progetto non avesse fatto ricorso alla cosiddetta analisi di rischio. Non lo doveva fare semplicemente perché aveva fatto ricorso alla procedura semplificata prevista peraltro dalle norme, perché la procedura semplificata prevista da un articolo del test unico dell'ambiente prevede che per velocizzare appunto le bonifiche si possa saltare la fase di analisi di rischio. Perché? Perché si toglie il materiale contaminato, si tolgono i rifiuti, si tolgono i terreni contaminati e quindi non si deve passare per l'analisi di rischio che peraltro avrebbe l'effetto di arrivare a degli obiettivi di bonifica meno restrittivi di quelli attraverso la procedura semplificata. Cioè i terreni potrebbero rimanere con valori di contaminazione leggermente superiori o anche superiori di molto rispetto alla procedura semplificata. che quindi è più restrittiva, è più conservativa, quindi i benefici per l'ambiente sarebbero addirittura maggiori. Intanto il sottosegretario all'ambiente, Roberto Morassut, tenta ancora di smorzare toni. In una nota a Lanza dichiara che risanare i siti inquinati, che in Italia sono 45 per un totale di oltre 170 mila ettari, è una priorità per Stato e Regioni e per questo si affronterà una riforma del testo unico ambientale col fine di aumentare i fondi per le bonifiche. Morassut però non specifica né come né quando, mentre 50 milioni per Bussi sono stati ridesignati al Ministero dell'Economia. Ci chiediamo il perché si stia facendo tutto ciò per rimandare una bonifica che aspettiamo da tanti anni. Eravamo arrivati con un progetto praticamente sulla soglia della realizzazione e ora riparte tutto da capo ridando a Edison praticamente le chiavi del futuro di Bussi.